Le azioni programmate in corso sono propedeutiche alla collaborazione da attivare con i galavalieri di Malta, proprietari della villa, che hanno manifestato il proprio interesse a rientrare in possesso del bene, seppur condividendo con l'amministrazione comunale di Salerno attività e progetti di realizzare di interesse collettivo che riguardano soprattutto l'utilizzo degli spazi all'aperto. Un altro significativo passo in avanti comunque è stato fatto per riportare alla totale fruizione gli spazi esterni di Villa Carrara. A darne annuncio è l'assessore delle politiche sociali e giovanili di Salerno, Paolo De Roberto, dopo una prima attività di sistemazione del verde, ripristino del decoro dei luoghi, anche le panchine dei giardini di Villa Carrara avranno nuova vita. Il comune di Salerno, dice sempre a De Roberto, grazie ad una sinergia tra l'assessorato, politiche sociali e giovanili e l'assessorato alla mobilità, sta lavorando per rigenerare le sedute del parco, tinteggiando le panchine e sostituendo le doghe rotte. La speranza è che dopo il ripristino ci sia anche il rispetto del bene pubblico che non sempre ha goduto del senso civico dei fruitori. Anche per questo, oltre alla valorizzazione dell'arredo urbano, il settore politiche sociali ha anche attivato un progetto di utilità sociale sul parco che permetterà un'attività costante di piccola pulizia, di manutenzione e di guardiania anche di urna, che si aggiunge a quanto già realizzato.